Aspetta, fammi pensare, cuciniamo, cuciniamo, ma che cuciniamo? Cioè, che cosa dobbiamo cucinare? Cosa ci portiamo da qua? Una cosa dobbiamo comprarla? Pagliamo noi, eh? Sì, sì. Del lavoro di qua, non è che ti posso... Sì, sì. Sì, sì o no? Sì, ha detto, ha detto o no. Ah, ma non ti andiamo a vedere, ma non ti andiamo a vedere. No, io mi arrabbio, non ti andiamo a vedere la soglia. Gli uomini vanno presi per la gola e chissà che questa sia veramente la buona occasione per trovare questo zeto perché è un zeno, perché è un mare. Ma quando è questo zeto? Eh, diggielo. Ma quando? Ma quando? Ma gioia nelle mie vite. Quando è ora questo ragazzo? Ma quando? Non ti sa. Non ti sa, non ti sa. Intanto facciamo la spesa e chi lo sa? Chi lo sa? Eh, facciamo la spesa, sai? Sì, andiamo. Allora, muovo il basilico. Muovo il basilico, sì, 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 un po' di basilico, prendiamo un po' di prezzemolo, un po' di prezzemolo, un po' di prezzemolo, lo prendiamo un fungo magliuccia, eh? Un fungo magliuccia, sì, un fungo magliuccia, un pira, pume e patate, l'ho già preso, adesso le pago. La pignano, queste pignano? No, no, sì, 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 va bene così, due, due, due. Ripete, va bene così, questo non è gusto, un po' di amici. Sì, sì. Ma che cosa cuciniamo non l'abbiamo detto, la fine? Io faccio pasta un po' di pezzemolo. Allora, vogliamo ripetere, io? Basta con le pesce. Basta con le pesce? Sì, sì. Ha giudicato pasta con le pesce? Sì, sì. Vai.